L'amore ha un nome, dall'enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptor Ominis, del 1979, numero 9. Il Dio della creazione si rivela come Dio della redenzione, come Dio fedele a se stesso, fedele al suo amore verso l'uomo e verso il mondo, già rivelato nel giorno della creazione, e il suo è amore che non indietreggia davanti a nulla di ciò che nel lui stesso esige la giustizia. E per questo il figlio, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Se trattò da peccato colui che era assolutamente senza alcun peccato, lo fece per rivelare l'amore che è sempre più grande di tutto il creato, l'amore che è lui stesso, perché Dio è amore, e soprattutto l'amore più grande del peccato, della debolezza, della caducità del creato, più forte della morte, è amore sempre pronto a sollevare e a perdonare, sempre pronto ad andare incontro al figlio e al prodigo, sempre nella ricerca della rivelazione dei figli di Dio, che sono chiamati alla gloria futura. Questa rivelazione dell'amore viene anche definita misericordia, e tale rivelazione dell'amore e della misericordia ha nella storia dell'uomo una forma e un nome, si chiama Gesù Cristo.